Il Paradisi delle Signore 8 Anticipazioni 19 ottobre, chi sta inseguendo Matteo di nascosto? Matteo, convinto dai consigli e dalle rassicurazioni di Maria, confida alla madre di aver deciso di restare in paradiso, anche se è arrabbiato per l'ingerenza di Marcello. Tuttavia, quando viene dimesso dall'ospedale, Portelli non si accorge che qualcuno lo sta seguendo e non sembra avere buone intenzioni. Nella puntata successiva della SOP Matilde Tancredi svela che Vittorio è impegnato nella realizzazione di uno slogan da sottoporre alla Camera di Commercio in merito alla proposta di collaborazione con il Giappone per la Galleria Milano Moda. Io ho offerto la mia collaborazione. Matilde decide di non tenerlo segreto a Tancredi, ma come reagirà Santerasmo? Alfredo finirà per indebitarsi per Irene nella puntata di giovedì? Alfredo? Per impressionare Irene, vuole comprare un motorino anche se non ha soldi. Ma prima di indebitarsi fino al collo, si rese conto che non le piacevano gli scooter. Dopo qualche resistenza, Umberto consegna finalmente a Marcello Primo documenti di Adelaide. Grazie. Grazie.